Ma buongiorno raga come state tutto bene? Oggi vi porterò nel backstage di un videoclip musicale Praticamente tutto è partito dal mio vicino che ha un gruppo musicale e stanno facendo il nuovo videoclip per la loro nuova canzone E mi hanno chiesto una mano, non sarò io il videomaker, il regista a creare questo videoclip Io sarò uno dei personaggi inseriti all'interno del videoclip Arrivato! Ma buongiorno! Come va? Tutto bene? Ciao Zac! Ciao! Allora, pronto? Eh, ho visto che stavano già sistemando all'interno È la nostra nuova auto-officina Non suoniamo oggi Ah ok, mi avete chiamato per... Sei venuto a riparare la macchina? Ah, sì 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 Ciao Ok, niente male, fa bene così Che lui è brutto Lui non saluta nessuno Io non saluto nessuno, io non so salutare Ciao, ciao a tutti Ciao, piacere Praticamente tu sei parte della società Ok Che viene destato da una specie di autopilota Ha un po' la Matrix Da questi scemi vestiti di arancione E quindi il percorso in realtà è tutto un viaggio pindaico Che ti stai facendo tu Dove in realtà poi alla fine vieni maltrattato dal sistema E ritorni a essere parte del sistema Ok Ma alla fine tirarai fuori un fazzoletto arancione che prima non avevi Dalla tasca qui Ok Che è simbolicamente ciò che rappresenta il... La presa di coscienza del fatto che ora sai che non stai vivendo bene Bene Ok Ma stai vivendo in un... In un... In un... Governo distoppico Ok Che è quello di Hollywood, non quello di adesso Non stiamo... Facciamo complottare Ok Eh ma le scie chimiche le hai messe nel video Abbiamo appena scoperto una cosa Io e Stefano Che sarà il regista di questo videoclip Abbiamo appena scoperto di essere parenti alla lontana Buonissima Ma Ma è una roba super particolare questa Si è un caso della vita Prove tecniche dei vestiti che dovrò indossare durante il video Mi sembra di ritornare ai vecchi tempi del regno Ma le mettiamo un po' di luce o no? Non era una canzone pop? Quasi È un pochino... Di orecchie Si, si La papaya? La papaya adesso è arrivata Io avevo richiesto il make up artist Lo stylist La papaya E il camerino E non c'è niente di tutto ciò E il camerino c'è E questo Lo grande Ma io... Esatto Ma non... Non c'è spazio niente Non c'è spazio niente Perché c'è questo Il design Erano anni che non vedevo un televisore a tubo catodico Raga Pesa? No Cosa devo fare io ora? Allora, lui ti farà vedere Qua Che aspetto? Delle immagini tipo Mentre lui canta la strofa Cercherai di interpretare queste immagini Nel senso farei vedere tipo così Una telegiare un po' da dietro Poi faremo anche un close up Comunque a cavalletto di questa cosa E tu stai cominciando un po' a realizzare Poi dopo c'è la scena dopo In cui appunto c'è la ballerina e tutto quanto In cui proprio realizzi dove stai vivendo E stai vivendo in una situazione che non funziona Una situazione distopica Un futuro Ok Devole un po' appunto di più Certo Per la 1900 Quindi io sono Tipo che sto guardando la tv E sono scandalizzato dalle cose che sto guardando Esattamente Comunque tutta posta Ok 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 Sono stati comprati dei coltelli Ma per aprire la confezione Serve un coltello per aprire i coltelli E quindi siamo E' un inception C'è una roba da mangiare con questa cosa sai Ecco Vedi, vedi 5 Voi portate 3 Massa 5 6 Ok 3 4 Così 3 No Quando lui si alza se ne va Perché non vuole guardare la performance D'accordo Voi lo afferrate E lo portate all'indietro Quindi adesso costruiremo questa scena In cui lui anna spera Andrà a terra e cercherà Con le unghie di scappare Mentre voi lo tirate all'indietro Sempre in me lo faccio Lentamente Tutore E... Azione Mi ha spaccato la maglia Mi ha spaccato Mi ha spaccato Mi ha spaccato Raga Cioè io vi denuncio davvero Guardate cosa mi avete fatto Tu Tu sei stato Lo sei molto ascolto Sono ancora vivo Sono ancora vivo Sono ancora vivo Abbiamo finito il primo giorno di riprese Come and then E... Come and then O O O O O O Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS